Ero in bagno, mi sono affacciata un attimino e ho sentito un leggero botto e poi ho pensato fosse un petardo, qualcosa così. Poi invece dopo due minuti ho cominciato a vedere questo fuoco che avanzava, mi sono affacciata alla finestra e abbiamo visto che ci hanno dato fuoco alla macchina di servizio. È stato abbastanza traumatico. Un ordigno artigianale questa notte è stato lanciato contro la caserma dei carabinieri di Pergine-Valdarno, quella che vedete alle mie spalle, completamente divorata dalle fiamme, un'auto di servizio che era parcheggiata proprio fuori dalla caserma. Io inizialmente ho sentito questa prima botta, leggerina quindi probabilmente, e poi dopo qualche minuto mi sono accorta che avevano incendiato questa macchina. Il rogo è divampato attorno all'1.40 da una bottiglia incendiaria lanciata contro il muro. Il liquido si è così sparso raggiungendo le gomme dell'auto di servizio, una grande punto, divorata poi dalle fiamme. A lanciare l'allarme i residenti della zona quando hanno udito la deflagrazione e poi visto le fiamme. Cosa ha sentito? Tipo un'esplosione sorda, tipo quando c'è le scosse di terremoto. Mi sono affacciato perché pensavo, hai visto qualche macchina, c'è un parcheggio. E niente, ho visto qui i lampeggianti, c'era pompieri. Oltre all'auto completamente distrutta restano ancora i danni alla facciata, sulla quale sono ben evidenti i segni del fumo. Le indagini adesso sono a tutto campo per risalire alle cause e agli autori del gesto, al vaglio dei militari anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e della caserma. Il responsabile però potrebbe aver ben studiato il folle gesto, posizionandosi in un cono d'ombra non ripreso dunque dagli occhi elettronici. Cosa ha pensato quando ha saputo quello che è successo? Siamo arrivati ad altri punti estremi, però c'è la stupidità o una confine. Il sindaco di Laterina Pergine, Simona Neri, ha infine espresso solidarietà all'arma tramite la sua pagina Facebook. Quello che è successo questa notte ha scritto è inaccettabile, gravissimo e pericoloso. Un episodio da condannare fermamente per la violenza che esprime. Ci auguriamo che quanto prima si individuino le dinamiche e le responsabilità di questo reato gravissimo.